Un weekend da incorniciare a Santa Caterina Val Furva, teatro dei campionati italiani di sci alpino organizzati da Oltre Cancro Primo Aiuto. Nell'ultima giornata di gare sulla pista Deborah Compagnoni, titolo di Super G a Emanuele Buzzi del gruppo sportivo Carabinieri e Francesca Marsaglia del centro sportivo esercito. È stata una stagione lunga e difficile per me, sia sul piano psicologico soprattutto, però è una bellissima gara oggi, quindi sono contento. Non cambia la mia stagione, però mi dà tanta motivazione per ricominciare a lavorare fino a subito. Sono contenta, oggi erano bellissimi Super G, molto attaccate io e la Elena, quindi è stato come un po' tutto l'anno i Super G anche in Coppa del Mondo, quindi l'abbiamo concluso un po' con un'ultima battaglia e sono soddisfatta. È sicuramente bello chiudere la stagione in una nota positiva. Avere ospitato in quest'inverno un calendario di gare importanti ha dato a Santa Caterina Val Furva ossigeno prezioso in una stagione avara di turisti, generando indotto economico per la località che sul piano tecnico e organizzativo si è fatta trovare pronta. Ci siamo trovati a inizio stagione sempre ed esclusivamente da un punto di vista agonistico con la Coppa del Mondo, abbiamo fatto nel frattempo, nel durante il proseguo dell'inverno altre gare, siamo qua a concludere con i campionati italiani. Questo è da dare merito e un grande ringraziamento a Cancro Primo Aiuto che grazie al suo staff tecnico e alla preparazione che da anni ormai loro hanno in questo settore ha permesso a tutti gli agonisti comunque di potersi confrontare durante tutto l'inverno con tutte le gare che mi sembra che ne abbiano organizzate più di 120. E quindi un grosso applauso alla Cancro Primo Aiuto. Speriamo che questo sia l'inizio di un futuro che non sia più come quello che abbiamo avuto e speriamo veramente di poter iniziare la prossima stagione come quelle precedenti e che ci meritiamo tutti quanti. A Santa Caterina le gare proseguono anche in questa settimana di Pasqua col Gran Premio Italia Oltre CPA, campionato italiano giovani.